Ciao ragazzi, altra nuova destinazione Buonasino, che stiamo? Siamo qua a Bari, il centro proprio storico di Bari No ragazzi, siamo a Santa Monica Siamo uno dei famosi rocker Rocker sono la rock Il cannone che ha sparato Ah, non bruca il suo cannone Vabbè, siamo prestati ad andare Verso il famosissimo muro di Santa Monica Dove si è buttata Monica Ma sapevi questa cosa tu? No, no Ma sapevi che stai facendo? Ando a fare foto sta Ma lo sapevi che è Ma che stai facendo Monica? No, ma si era fattupato da Monica Vabbè ragazzi, noi ci apprestiamo ad andare sotto Dopo vi scriveremo Vi manderemo qualche mail e vi diremo com'è Va bene? Stiamo facendo la professione La professione di Halloween